o la e allora non so se c'era qualche commento un attimo che accendo la macchinetta qua lo smartphone ma qualcosa c'era sicuro roberto di furia per gli amici roberto fuori salve sono roberto di furia dice scherzando perché chiaramente quando postate commenti c'è già il nome salve sono roberto di furia ma la tua tong siamo noi le tong lo dico per quelli che non lo sapessero cioè i cinesi che stanno in italia praticamente solo loro non lo sanno erano le associazioni chiamiamole così triadi sorte in terra americana in terra straniera e che a hong kong chiamavano triadi o hong anche hong che ci aveva più significati siamo noi i 455 k altra battuta ironica che solo roberto può fare perché solo lui mi ha seguito lui e pochi altri in tutti i video ho citato spesso la 14 k che era la seconda triade più potenti di hong kong quindi ci siamo i 455 k cioè gli iscritti del canale senza ascia ma col telefonino in mano ulteriore citazione perché nei vecchi film dei kung fu le triadi le bande dei cattivi in armate dei asce vedete kufang il ciclone di hong kong perché roberto diceva dopo aver goduto con l'ennesima visione di hap kido film divertentissimo con un angelo amau al top della sua bellezza ma non solo al top io direi anche al ghat ma com'è possibile che non sia mai arrivato in italia e mai sia stato doppiato e beh perché ne sono arrivati talmente tanti questo stava in quel pacchetto dei film qua è arrivato quell'altro non le di whirlwind mi sono entristito col finale di questo video cioè il mio ma come vuoi disperdere una tong di quasi 500 ottimi elementi no desisti vittorio desisti che era un regista il film che noi tutti vogliamo credere vedere non è shang chi o enter the dragon 2 noi vogliamo mister lao non deve morire infatti siccome non lo so come si chiude il canale perché non l'ho aperto io e difatti pure quell'altro non so come si chiude il canale lorenzo duca quindi ho cancellato semplicemente tutti i video che c'erano probabilmente farò la stessa cosa pure qua cioè una volta eliminati tutti i video rimane la cattedrale nel deserto però nell'ipotesi che magari voglio tornare una volta di una cosa estemporanea c'è qualche film che esce qualche cosa è ce l'ho già pronto e saluto roberto e magari fossero stati tutti come lui ma i numeri parlano chiaro me remano contro 450 iscritti 55 in vero erano 420 fino a poche settimane fa ultimamente siete un pochino cresciuti lentamente ma costantemente però 455 iscritti in un anno e mezzo dei video fa piacere perché poi l'uditorio era di qualità il più delle volte ma i numeri dicono un'altra cosa insomma non è un canale che valga la pena tenei piedi perché non c'è un grande seguito e ma kodof dice dice che perché l'aveva accusato peraltro giustamente lui non ha ma c'è ma lui si è risentito perché come tutti i fans di jet li quando poi tu glielo dici e chi lo ha detto che non mi piace shang chen non mi fa impazzire quanto lao car leung beh te posso da ragione a me piacciono ex ego questo sì ma adora ad esempio the duel one armed source man boxer from shantung e blood brothers semmai sono i venom sa non piacermi saluti dalla tundra ora io in realtà io risposto in una maniera evasiva io ho detto chiedi a tua moglie di svelarci il mistero del tungusca perché lui la moglie vengono da lo sapete quella zona della russia dove accadde i primi del novecento quella misteriosa esplosione nucleare prima che fosse inventata la bomba nucleare e dove anni dopo quando finalmente una spedizione riuscì a arrivarci a trovare luogo trovarono migliaia di ettari di alberi sradicati e disposti a raggera mis grande mistero mai risolto per cui c'era una parte della comunità scientifica che diceva è stato meteorite un'altra parte però non c'era al cratere un'altra parte diceva è stato un frammento di antimateria come a di è stato gold reich che ne so e altra parte che diceva è stato un disco un'astronava in disco volante che si è schiantato una nave di grandi dimensioni che si è schiantata però certo ci sono arrivati anni dopo quindi qualunque cosa ci fosse sul momento nessuno lo saprà mai ma per parecchio tempo furono avvistate delle aurore dei boreali tutta europa in seguito a quell'esplosione lui all'epoca già stava lì lui già stava lì e makodov faceva il boscaiolo fu tratto in salvo da una spedizione scientifica guidata dalla da un team misto dei esperti russi che però ripeto passarono anni prima che andarono lì e ancora c'erano tracce di radioattività e nella nella spedizione c'era anche c'era una porta che presso una cuoca irina kocilova perché viaggio era lungo e fu lei a trarre in salvo e makodov trovandolo ferito ma vivo lo avvisò il team scientifico per il quale cucinava lo trassero in salvo poi le cose sono finite a giuste cozze cioè giuste nozze sono convolati lui è guarito si è sposato a lei però loro sanno il mistero del tungusca ma e makodov evasivo come sempre perché ovviamente facendo entrambi parte del kgb dice la moglie dice che l'incidente del passo di diatlov è ancora più interessante escursionisti ritrovati morti in una notte con crani fratturati alcuni con costole rotte a uno mancava la lingua e aggiungo io un altro sul trovato morto anche parecchio distante dalla tenda sui vestiti elevati livelli di radioattività ancora se ne parla da loro e ci credo io anche quello so lo sappiamo tutti ci hanno scritto libri ci hanno fatto un film che non è granché ma secondo me il più grande mistero è che rimane ancora come abbia potuto avere successo jet lee ma va scherzo ciao successo perché è stato diretto da un grande regista sui arc poscia poscia forse c'era qualcosa a proposito del mio libro ci dice marco cibba che il figlio illegittimo italiano dei sonni cibba e donatella lettore l'idea è quella di ampliare quello che abbiamo fatto con il dossier di nocturno cercando di recuperare molti più film ottimo 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 però stavolta metteteci anche i titoli italiani dei film non solo con gli stranieri perché come raccontai il dossier di nocturno che era gustosissimo però non metteva i titoli italiani di molti dei film usciti anche qua danno in questo modo l'impressione che fossero inediti invece erano usciti quasi tutti perché non lo sapevano ovviamente poscia a temanno per l'aria non l'avevo questa è la prima volta che scrive ma non l'avevo mai sentito sonic name mi piace temanno per l'aria dieci ore fa io sono convinto che low way abbia ucciso bruce brandon le date coincidono brandon morto nel 93 low way nel 96 oltretutto c'è un indizio nel suo ultimo film billy low più chiaro di così ma tu forse intendi di billy low che somiglia al nome de low way guarda è una cosa assolutamente campatenaria però da un punto di vista romanzesco se uno volesse scriverci un racconto sarebbe divertente però io non credo non che low way non abbia tratto piacere dalla morte di bruce lee o che non abbia in qualche modo potuto contribuire se non è stata una morte incidentale visto che era contigua le triadi lo sappiamo l'ho già detto mi riesce difficile pensare che anche su brandon col quale non ci aveva rapporti però è un'ipotesi fanta politica fanta cinematografica molto gustosa Anna Muele Thaler Anna Muele Thaler sei simpaticissimo fan di bruce lee cioè lei è fan di bruce lee lo siamo tutti qua sopra Anna Muele Thaler sarà un cognome tedesco della tedeschia non lo so comunque grazie Anna questo l'ho letto Antonio Nicoletti ciao Lorenzo sono anche io e no stavolta non te sei presentato me lo mette ciao Lorenzo sono Antonio Nicoletti ciao Lorenzo sono anche io ho visto l'ultima sono anche io lo so che tu sei anche tu a meno che non c'hai una dissociazione di personalità siete in due Jackie Lehyde sono anche io ho visto l'ultima sfida di bruce lee l'unica scena che mi è scherzo eh voglio dire lo so che quando si scrivono si scrivono i commenti pure io scrivo male perché non mi va cioè non mi piace di stare lì con la tastiera quindi ti prendo in giro mezzo in saffettuoso ciao Lorenzo sono anche io ho visto l'ultima sfida di bruce lee l'unica scena che mi è piaciuta che quando Bobby Lowe disse al Monco quando gli chiede di uscire che doveva parlare con il capo eh sì quella che vi ho raccontato no però ioran Lewis nella torre della morte che dice a Bobby Lowe che gli chiede ma chi è quel servo sospetto di lui chi il Monco era un monaco che era qui siccome Monco mi faceva pena l'ho tenuto come cameriere entra il Monco scusi si accomodi fuori che devo parlare col capo praticamente un cavone ignorante che comandava su tutti poi mi è piaciuta la scena finale il combattimento finale contro Wong Chang Lee a proposito di Wong Chang Lee è uguale c'era pure in brusilio ancora o mi sbaglio oppure no certo che non ti sbagli c'era anche là era un cattivo ricorrente dei film di Kung Fu Indipendenti che esordì tra l'altro in due film il suo film d'esordio che io sappia è stato proprio una Bruceploitation anche se all'epoca il termine non esisteva che era Bruce Lee ossia Bruce Lee Story ossia Bruce Lee un corredore due mani d'acciaio dove lui faceva lo stuntman lo scagnozzo e poi parallelamente girò in Corea però perché quello era taiwanese in Corea girò Billy Chang dove c'è sempre lui senza baffi ancora grande cinema con Marco ciao sulla risposta del film La Tigre della Manciuria avevo sbagliato volevo dire nella scena quando Bruce Lee colpisce in mezzo alle gambe o Ara non ti preoccupa ciao Lorenzo vado fuori tema Gonzalo Iquain cosa ne pensi di Tony Sperandeo ci ho lavorato un paio di volte ma non so perché mi chiamava sempre Luciano è un bravo caratterista un bravo attore però vabbè io ci ho lavorato in due filmetti praticamente l'ho incontrato là sul set abbiamo chiacchierato così una volta mi faceva pure Anna a casa sua era da poco morta la moglie e peschiava un soggetto insieme poi è sparito nel senso non ne ho più saputo nulla ogni tanto mi arrivava una telefonata negli anni sentivo un accento siciliano c'è pronto c'è l'ociano e io dicevo no sono Lorenzo scusi ho sbagliato ebbi poi l'impressione dopo che fosse lui che cercava me chiamandomi col nome sbagliato ma non c'avevo il numero suo non c'avevo ma il numero suo